un saluto agli amici di ciscar tv e a coloro che seguono la rubrica culture africane oggi parleremo di questa incredibile persistenza del culto della personalità in molti paesi africani per quanto riguarda la governance i leader africani che detengono il potere indeterminato spesso ricorrono a culti della personalità per consolidare il potere richiedere fedeltà personale e minare sistematicamente le istituzioni di governance indipendente quando i leader neopatrimoniali di lunga durata in burkina faso gambia zimbabwe sudan sono state costrette a dimettersi a causa delle proteste popolari e giovanile degli ultimi anni l'era dei presidenti a vita in africa sembrava finire eppure per ogni leader costretto a lasciare il potere ne emergono di nuovi in molti casi i leader africani che mantengono il potere a tempo indeterminato sono caratterizzati dal culto della personalità pervasiva la dimostrazione della potenza duratura di questo strumento di potere il culti i culti della personalità creano un'immagine idealizzata ed eroica del leader come essere superiore e in alcuni casi sinonimo di legge stato e paese di conseguenza il destino della nazione legata a quello del leader che viene promosso come padre o addirittura come vedremo nonno il benessere e la sicurezza della nazione dipendono dal rispetto per la saggezza il patrocinio e la vigilanza del leader venerato più a lungo il leader si aggrappa al potere e più probabile è che si sviluppi un culto della personalità cioè coerente con l'osservazione che leader africani che eludono i limiti di mandato spesso hanno livello di popolarità e legittimità in calo e quindi devono sempre più affidarsi a strumenti non democratici per mantenere l'autorità questi leader non governano per consenso ma attraverso la coercizione l'inibizione della competizione politica e il controllo serrato di premi e punizioni questa deviazione dallo stato di diritto porta spesso a violazione dei diritti umani a minare la fiducia delle popolazioni molte dei leader più longevi dell'africa teodoro teodoro obianguema basogo della guinea equatoriale che ha governato per 44 anni paul bia del camerun 41 anni museveni in uganda 37 anni isaia safer worki dell'elitrea 30 anni e dennis sassu un guesso della repubblica del congo 26 anni hanno favorito il culto della personalità in una forma o in un'altra alcuni strumenti per sviluppare il culto della personalità includono la valorizzazione degli attributi indispensabili del leader supremo attraverso la propaganda la formazione al patriottismo le manifestazioni e i frequentissimi raduni organizzata dallo stato e e poi monumenti le arti gli eventi sportivi e la stampa e la stampa dell'immagine del leader su monete banconote altri oggetti onnipresenti in camerun per fare un esempio legato allo sport e calcio è stato utilizzato per perpetuare l'onipresenza del presidente paul bia questo strumento è stato apprezzato da molti vista la passione del camerun per questo sport quando la sua nazionale i leoni indomabili raggiunse i quarti di finale della coppa del mondo del 1990 fu un evento eccezionale per l'africa via si crociolò nella gloria di questo risultato adottando il soprannome di uomo leone ora il desiderio di biva di associarsi allo sport e leoni indomabili comprendeva anche la creazione di un leone di una leonessa che portassero il suo nome e quella di sua moglie allo zoo nazionale degli ondè la morte del leone di polvia nel 2007 ha scatenato voci frenetiche sulla salute del presidente alcune delle quali hanno portato in carcere molti giornalisti con pene anche severe questa intensa autopromozione cerca di contrastare la percezione delle assenze seriali di via si dice che trascorre oltre il 15 per cento del suo tempo all'estero per lo più in hotel di lusso di ginevra in linea con il mito dell'onipresenza il governo organizza ogni anno feste di compleanno di massa nei villaggi del camerun anche in sua assenza nel febbraio 22 oltre 2.500 persone si sono presentate agli ondèpe per una sola delle decine di feste organizzate dal governo giustificazione comune dei leader delle più frequenti che delle giustificazioni che i leader danno per aggrapparsi al potere e abbracciare lo status di esseri semi divine è che solo loro possono preservare l'indipendenza della nazione e garantire stabilità sicurezza e sviluppo economico questo è l'argomento usato dall'ottoagenario teodoro guema basogo il presidente più longevo dell'africa e del mondo che medis e media statali descrivono come il dio della guinea equatoriale che ha ogni potere sugli uomini e sulle cose può uccidere senza andare all'inferno obiang usa il pretesto di preservare la stabilità per schiacciare gli oppositori e concentrare il potere esecutivo giudiziario e legislativo il suo partito democratico della guinea equatoriale è gestito in gran parte dal memberi della famiglia e da protetti tutti i riscolti del partito terminano con gli auguri di buon lavoro la maggior parte degli edifici governativi è una loggia presidenziale annessa in tutte le città ci sono strade che commemorano il colpo di stato che lo portò al potere nel 1979 quando fece giustiziare lo zio e predecessore massias guema il suo volto è stampato sugli abiti indossati dai sostenitori e dai seguaci del partito l'ex presidente togoloso nyang simbe e adema il sovrano più longevo dell'africa prima della sua morte nel 2005 si avvaleva del culto della personalità altrettanto sfacciato aveva un entourage di mille donne danzanti che cantavano la sua loda e ritratti che adornavano gli edifici negozi una statua di bronzo all'omè orologi da porzo con il suo ritratto che apparivano e scomparivano ogni 15 secondi è un fumetto che lo raffigurava come un supereroe con poteri speciali la data del fallito colpo di stato contro di lui è stata commemorata ogni anno come festa della vittoria sulle forze del male il suo rally del popolo togolese rinominato unione per la repubblica nel 1995 e l'esercito togolese sono profondamente intrecciati con il culto della personalità di gas in me e lo e lo propagano attivamente entrambe le istituzioni sono dominate dall'etnia caibe dopo la morte dei de ma nel 2005 i militari hanno insediato suo figlio for permettendo alla dinastia gassinghe di continuare a lungo dopo la sua morte nel 2019 for ha approvato una legge che gli concede altri dieci anni di governo estendendo potenzialmente la dinastia del del suo governo a 63 anni il coinvolgimento dei militari nelle successioni dinastiche nella repubblica democratica del congo 2002 in togo 2005 in gabon 2009 e nel chad nel 2021 illustra ulteriormente l'effetto che il culto della personalità può avere sul settore della sicurezza i militari inoltre sarebbero stati utilizzati per facilitare l'ascesa alle cariche di un nuovo gruppo di figli di presidenti in camerun repubblica del congo e gabon in zimbabwe robert mugabe ha cercato di insediare la moglie grace ma qui i militari si sono rifiutati alla fine lo hanno restituito la rivendicazione di successione familiare ha raggiunto il culmine in uganda dove gli altri vertici militari sono stati coinvolti in una campagna di alto profilo denominato mk 2026 che secondo molti starebbe testando la reazione dell'opinione pubblica in uno scenario in cui il presidente museveni il quarto leader che governa da più tempo in africa cederebbe il potere al suo figlio il generale il generale muzzi kainerugaba comandante delle forze terrestre e fondatore del comando delle forze speciali d'elite questa campagna ha incluso celebrazione a livello nazionale per celebrare il 48esimo compleanno di kainerugaba nel 2022 con le forze di difesa del popolo dell'uganda updf che hanno svolto il ruolo di primo piano la fulmina ascesa di kainerugaba ha scatenato intense speculazioni nel corte degli anni in quanto la base di potere di museveni è ampiamente percepita come ridotta questo updf o ex esercito di resistenza nazionale braccio armato del movimento di resistenza nazionale rinominato nrm al potere è impregnato della storia personale di museveni che assume uno stato leggendario nelle confraternite del già citato nrm e updf i seguaci di museveni lo chiamano un zi anziano rispettato un titolo di affetto e riverenza museveni da parte sua si riferisce agli ugandesi in particolare ai giovani come ai bazookulu o nipoti in tutti i suoi discorsi comunicazioni ufficiali molti giovani lo chiamano alla loro volta già io o non queste espressioni d'affetto apparentemente normale nascondono anche qui un intenso culto della personalità che si è radicato soprattutto nell'esercito il principale gruppo ed elettore di museveni la storia ufficiale del updf insegnata in tutte le scuole militari consiste in libri e opuscoli scritti da museveni durante la lotta armata del a nr le commemorazioni nazionali annuali della settimana taré sita la cesta data segnano il giorno in cui muse un musuveni prese il potere il 6 di febbraio 1986 questi insegnamenti sono diffusi anche attraverso i club del patriottismo istituiti in tutti i 136 distretti e alcune scuole selezionate dal segretario nazionale per il corpo del patriottismo una sorta di joint venture tra il commissariato politico capo cpc dell'updf e l'ufficio del presidente il cpc supervisione all'educazione al patriottismo ma da un lato modellata sui principi ideologici museveni alcuni l'hanno proprio definito musevenismo in tutte le unità militari il già citato updf e nlm organizzano anche campi regolari in cui i cittadini ripercorrono il viaggio di museveni alle guide delle truppe attraverso le giungle in cui si è sviluppata la sua ribellione il coinvolgimento dell'updf nella riflessione degli oppositori nelle violenze elettorali e nelle intimidazioni non sorprende dato il suo profondo radicamento nel culto della personalità di museveni lo pdf ha sostenuto la rimozione dei limiti di mandato nel 2005 e dei limiti di età nel 2017 cementando la monopolizzazione del del potere i membri anziani del loro pdf minacciano spesso conseguenze terribili sugli sfidanti politici museveni e molti fanno apertamente campagna per lui durante le elezioni non posso nascondere il mio amore per la nrm museveni ha spiegato il generale di brigata eli khania che ha liquidato una semplice legge che apparentemente impedisce ai membri del servizio di impegnarsi in politiche di parte altre ancora hanno giurato pubblicamente che non saluteranno né serviranno nessun altro infine umaro sissoko embalo della guineasau salita al potere con l'appoggio dei militari di 2019 definisce il suo stile di governo embalismo che descrive come ordine disciplina sviluppo si paragona all'ex uomo forte delle filippine robert rodrigo duerte il consiglio nazionale per la difesa della democrazia del burundi infine analogamente ha preso spunto dal partito al potere dalla corea del nord modificando le proprie leggi per dichiarare pierre un curintizza guida suprema del patriottismo se fosse stato in vita per legge avrebbe esercitato il potere di veto sul presidente e sul primo ministro saluto agli amici di cultura africane ea tutti gli amici di tv ciscan arrivederci